Signori, ecco a voi, bergrini. Ma c'è la cacca dentro. Che schifo, è l'intestino. È ancora peggio. Ci sei? Sì. Ragazzi, questo è pieno di proteine. È un bruco. È un bruco. Ah, hai mangiato l'interiore. Nell'interiore c'è un ricacche. Vabbè, sono proteine. È buona, sono proieteine. Proieteine. Questo, se non si ha niente da mangiare, è ottimo. Brughi della Tasmania.